Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti come puoi visualizzare all'interno di una sezione i marker che identificano la posizione delle sezioni che si vanno a intersecare. Può essere utile, per una miglior lettura dei disegni, visualizzare all'interno delle sezioni oppure degli alzati, i punti di passaggio delle sezioni che si vanno a intersecare. Ad esempio se dovesse andare ad aprire la sezione 01 posso vedere che all'interno di questa sezione abbiamo il passaggio di due sezioni, la 02 e la 04, per cui può essere magari utile appunto all'interno della sezione visualizzare questi due marker. In Archicad non abbiamo un sistema automatico, però abbiamo la possibilità di andare a inserire questi marker. Se ad esempio vado ad aprire la sezione 01 e all'interno di questa sezione voglio visualizzare i punti di passaggio delle altre due sezioni, per potermi aiutare e definire i punti di passaggio, dovrei andare a richiamare il sottolucido riferimento, lo vado a attivare, dovrei andare a selezionare la visualizzazione della proiezione del piano terra, del piano primo o di qualunque altro piano in modo tale da poter vedere il punto di passaggio degli altri due marker e per poter andare a tracciare il marker della sezione 02 e della sezione 04 dovrei andare ad attivare lo strumento sezione, all'interno dell'impostazione della sezione come tipologia di marker dovrei andare a selezionare posiziona marker collegato, automaticamente Archicad apre questa finestra dove posso andare a selezionare il marker. Nel mio caso inizio con lo 02, confermo con ok e vado a disegnare il marker. Questo tipo di operazione non andrà a inserire una nuova sezione, andrà a inserire solamente un simbolo grafico che è il marker che andrà a identificare appunto dove passa la sezione 02 all'interno della sezione 01. Faccio questa operazione anche con la sezione 04 per cui per inserire il secondo marker non devo far altro che andare a fare clic su questo pulsante, andare a selezionare la sezione 04, confermare con ok e andare a disegnare il marker della sezione 04. In questo modo avrò visualizzato all'interno della sezione 01 i due marker che identificano il passaggio delle altre due sezioni 01. 01. 01. 01. 01. 01.